Ragazzi siamo a fine anno, è il momento di fare i conti e cerchiamo il video virale italiano più visto del 2014. Il vincitore è Mille Accendini con oltre 10 milioni di visite per Coca-Cola, Mentos e Nutella. Oggi c'è un articolo sulla stampa che parla appunto dei video italiani non musicali più visti del 2014. In realtà c'è Suor Cristina che è un po' musicale e è nata con la Rai, quindi è un video quasi televisivo. Perché comunque telecamere della Rai, cosa della Rai, canale di Youtube della Rai, ha fatto 40 milioni di visite. Va bene, contiamo anche Suor Cristina. E poi ci stanno altri video tra cui però manca quello di Mille Accendini. E mi domando come mai un video virale che interpreta proprio lo spirito di Youtube. Cioè uno senza Santi in Paradiso, senza spinte, senza strutture, senza Rai, senza Medio, senza appoggiatori promuotere e altro, riesce a fare un video che fa 10 milioni di visite e non viene messo ad esempio. La stampa dice che riporta i video che stanno sulla pagina Rewind che sta per uscire. Quindi c'è un'anteprima. Io mi domando come mai non ci sta Mille Accendini? Che il santo in Paradiso, io ce l'ho, perché questo è il Paradiso e io sono santo. Meno male che Mille c'è, 10 milioni di visualizzazione, il video italiano autoprodotto con più visite del 2014. Mille Accendini, Youtube, Broadcast Yourself. E io mi pubblico da solo, se la stampa è faziosa e di parte imparziale. A me vengono presi in considerazione oltre le visite, le visite, oltre le visite e altri fattori. Meno male che Mille c'è.